Pronto? Ciao, Barack. Non avevi un appuntamento? Sì, ma ho ancora qualche minuto prima di uscire. Non mi stai controllando, vero? Sì, forse sì, ma è un sacrosanto diritto di una nonna. Hai la brutta abitudine di fare tardi? E se fai tardi al primo appuntamento, ti assicuro che non ce ne sarà un secondo. Sarò puntuale, tranquilla, ma lo apprezzo. Come sta, nonno? Come sta, dici? Come al solito. Va a giocare a brigi il martedì e giovedì. Gioca golf nel weekend, ma quando è a casa ad annoiarsi posso dirti che mi fa impazzire. Grazie. 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 Grazie.